Lo dico in partenza, Osvaldo Licini è uno dei grandi artisti italiani del Novecento, di calibro superiore internazionale. Come Fontana scavalca con un balzo il mondo dell'Ottocento e del primo Novecento per portarsi in avanti nel modernismo. Da giovane studia l'Accademia di Bologna dove incontra Morandi e Tozzi. Nell'incontro con i grandi pittori di natura morte e paesaggi, con Morandi appunto, resta qualcosa nelle sue dipinti, soprattutto nel paesaggio di cui parleremo oggi. Però diamo ancora qualche dato biografico di assoluto interesse per entrare nel mondo di Licini. Ad esempio è importante sapere che partecipa alla Grande Guerra, che viene ferito, ricoverato e congedato. Nel periodo di canvalescenza raggiungere i genitori a Parigi è qui la prima grande svolta, a modo di entrare in contatto con Modigliani, Picasso, Cocteau, Soutin e si lega al gruppo degli italiani a Parigi, i cosiddetti metechi, di stanza nella capitale delle avanguardie già da qualche anno. Sono De Chirico, Severini, De Pisis, Savigno e Tozzi, che aveva già frequentato nel periodo dell'Accademia. Fondamentale sarà per il Licini assimilare dal vero la lezione pittorica di Cézanne, di Matisse, di Van Gogh e quella degli impressionisti e dei grandi maestri dell'Ottocento che poteva ammirare e studiare a Louvre. Dobbiamo immaginare sempre cosa potesse significare per un giorno un'artista passare dalla sonnolenta e stanca atmosfera italiana a quella elettrizzante vulcanica di Parigi. Nel frattempo ha sposato una giovane pittrice svedese, Nanni Elström, e con lei rientra in Italia per stabilirsi definitivamente nel suo paese di origine, Monte di Don Corrado, vicinanza di Fermo, nelle Marche, un bel borgo medievale di poche centinaia di anime che non lascerà più. Da lì comunque, in una posizione defilata, riuscirà a restare in contatto con il mondo dell'arte italiana internazionale. Alla metà degli anni Trenta, ecco un altro passaggio cruciale. Licini varca la soglia dell'astrazione. Entra in contatto con gli artisti della Galleria del Milione, come Fontana, Melotti, Rorre, Gianni ed altri. Allo stesso tempo e con nuovo slancio torna a frequentare in brevi viaggi Parigi e si mette in contatto con il gruppo Abstrazione-Creazione. A questo punto arriva però un'altra svolta, suscitata anche dal rapporto intellettuale di amicizia con Franco Ciliberti, filosofo storico delle religioni. Abbandonato in linguaggio astratto, più geometrico-analitico, apre al mondo degli archetipi e delle cifre simboliche, pur restando fedele a un canone aniconico. I suoi lavori, regni di un sentimento magico, si popolano di figure mitiche e poetiche e Licini si mette a creare dei circoli, quasi delle saghe e fabole visite, in cui ricorrono certe figure come olandesi volanti, armalassunte e angeli ribelli. Il paesaggio che commentiamo oggi è di una bellezza astruggente, immortale, un'ora speciale, un momento di epifania indimenticabile della natura e tutta la risonanza sentimentale che questa apparizione porta con sé. Quel paesaggio è fatto di niente e di tutto, alberi, colline, cielo, una casa, unico elemento che certifica l'esistenza umana. Sicuramente un paesaggio dei suoi luoghi nativi. C'è qualcosa di Leopardi, di Lucrezio e c'è qualcosa della musica per pianoforte di Debussy. Più lo guardo e più mi sembra di rivivere la sensazione di calore e di freschezza di una giornata passata in campagna da ragazzino, con le maniche corte in mezzo ai campi e negli orti, quando la pelle è percorsa da brividi per tutta la bellezza che ci circonda e ci appare come un angelo in un'annunciazione. Tempo indimenticabile in cui si è in sintonia con l'invisibile materia di cui è fatta la poesia della luce, quella particolare epifania luminosa del mondo che dona alle cose una diversa momentanea forma di esistenza. È frutto di una sensibile percezione come di chi ancora guardando, osservando, resta preso nell'incanto, avviluppato nella sottile rete pulviscolare di atomi luminosi che si muovono dovunque. Dipinto restituisce perfettamente il sentimento di quei momenti, quando si contempla il vibrare leggero dei fili d'erba e delle fronde, le ombre che si ammalgano con la calce colorata delle mura di casa, l'apparire del cielo che domina con una consistenza soffice le lontane colline, le basse montagne fittamente ricoperte di verde. Molte volte guardando questo paesaggio ho pensato a Camille Corot, pittore dell'Ottocento. Avvicinandosi alla tela si nota poi il modo di procedere del pittore, la realtà delle cose restituita con piccole pannellate accostate una all'altra con variazioni tonali armoniose e calme di colore, ridotti alla qualità del verde, dell'oca, del grigio, del rosa e del celeste. Sono gli stessi colori insostituibili della tavolozza di Giorgio Morandi. Si avverte nella composizione visiva di questo paesaggio, però, una musica, una sonorità, un canto sottostante. L'arte della visione ci sembra di capire con Licini, sorge dal profondo e si coniuga alla scoperta di un legame inscindibile tra arti sorelle, musica, pittura, poesia. E con questi sentimenti e certezze Licini parteciperà al movimento astratto per poi in un certo modo distaccarsene. Così scriveva. L'astrattismo, ha spiegato la poesia, riconduce la grande arte della musica, l'arte del ritmo e dei suoni. La poesia è compresa nella musica, che è la poesia per eccellenza. E poi meglio precisava. La pittura è l'arte del colore e delle forme libere, liberamente concepite, ed è anche un atto di volontà e di creazione, ed è contrariamente a quello che è l'architettura, un'arte irrazionale, con predominio di fantasia e immaginazione, cioè poesia. E in questi giorni abbiamo bisogno di tanta poesia e fantasia tra le nostre architetture e le necessarie limitazioni. Buona giornata a tutti.